Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite me l'avete consigliato in tantissime ogni tanto io in live faccio queste cavolate di parlare così al microfono e ascoltando altri youtuber che fanno questo genere di video mi è venuta in mente una challenge che mi avete consigliato anche voi e cioè quella di fare qualche partita parlando solamente così e cioè ASMR questa tecnica appunto di parlare così davanti al microfono in questo caso io lo farò su Fortnite utilizzando mouse e tastiera che non ho mai usato perché utilizzo per giocare a Fortnite solamente il pad quindi sarà anche una sfida per me e quindi un bel pollicione sopra il vostro Lucius Sony che prova a fare questa challenge facendo appunto una partita ASMR sperando di non sclerare e vi ricordo ragazzoni inoltre di utilizzare il codice creatore Lucius nel negozio oggetti di Fortnite mi raccomando ragazzi perché mi supportate veramente tantissimo quando sa shoppare qualcosa nel negozio oggetti quindi nello shop di Fortnite tra l'altro c'è uscita anche la screen major laser come vi avevo annunciato qualche giorno fa e niente ragazzoni vi chiedo anche di condividere il video con tutti i vostri amici di commentare qua sotto per farmi sapere se vorreste altri video del genere iscrivetevi e attivate la campanellina per altri video del genere ok ragazzi adesso dovreste sentire anche un pochino di audio me ne vado a città pinacoli visto che tanto non so neanche costruire e quindi ragazzoni vediamo un pochino che cosa riesco a fare sono veramente nappo da mouse e tastiera raga quindi staremo a vedere che cosa riesco a fare ho trovato un po' un pacco quindi almeno questo l'ho trovato e ci sta vediamo un pochino ragazzoni se riesco a uccidere qualcuno visto che il mio braccio non me lo sento già più quindi gg per me non mi sento già più il braccio raga quindi aiutate ecco ne uno niente mi hanno già ammazzato io di solito non sono un tipo che parla così anche perché offline quando mi tiro giù il mondo ma in questo caso sto facendo un video asmr e non posso sclerare ma che cos'è quella skin che ho io ma raga che cos'è quella skin che ho io va bene va bene va bene andiamo a farci un'altra raga non c'è problema con la skin pancata con la skin omega perseguce la guerra invocato andiamo a farci una partita tra l'altro è uscito nel negozio gente di fortrite è uscita la skin major laser del video di chi ragazzoni ve l'avevo detto che usciva la collaborazione tra major laser e fortrite infatti è uscita ed oggi nel negozio il pacchetto e la skin singola qui ragazzoni si deve shoppare qualcosina codice creatore ludus nel negozio oggetti di fortnite tra l'altro raga mi fa male tantissimo le orecchie perché ho due cuffie praticamente ho le cuffie per sentire l'audio della mia voce attaccate al microfono e due cuffie che sarebbero quali più piccoli le attaccate al pc per sentire l'audio di fortrite per farvelo sentire anche a voi in teoria dovrei fare il contrario utilizzare quelle piccole per il blu yeti masticantissimi cavoli io sono l'audio se quindi faccio uno strappo alla regola me ne vado nuovamente a città pinnacoli anche perché tanto non so costruire quindi non avrebbe neanche senso come ho scassiare diciamo che sono abbastanza nappo come avete potuto vedere anche da prima addirittura con la mia cecchinato col caccia neanche cioè praticamente mi ha preso in testa raga mi ha fatto mi sembra un 90 anzi un 225 col caccia raga per farvi capire quanto sono scarso con mouse e tastiera la gente mi cecchina in no scope mi fa 225 quindi gg per me per il lucius che gioco con mouse e tastiera tra l'altro raga mi sto spaccando il braccio non avete idea non avete idea ragazzo mi sto veramente distruggendo il braccio perché non sono abituato a giocare con mouse e tastiera vediamo un pochino cosa riesco a fare ragazzone aia mi sparano aia raga mi sparano e io ho tutto 4 mamma mia l'ho ammazzato non so neanche io come ho fatto raga l'ho ammazzato uno raga l'ho ammazzato uno non ci posso credere non ci credo raga l'ho ammazzato uno non so neanche io come ho fatto non so neanche io come ho fatto non chiedetemelo vi chiedo solamente con bel pollicione in su per il vostro lucius che si sta impegnando visto che potrei sclerare da un momento ti avrei insultato malissimo potrei anche segnalato ma siccome sto facendo un video ASMR non devo urlare anche perché altrimenti stortirei scusate le orecchie a tutti quelli che mi stanno ascoltando quindi ragazzone andiamo nuovamente in giocatore singolo per l'ultima partenza di oggi anche per le non fatte due e sono morto letteralmente subito codici creatore lucius mi raccomando nel negozio oggetti di fortnite per vincere le partite anche in ASMR ragazzone tra l'altro mia sorella piace un po' l'ASMR quindi spero che vi piaccia anche questo video e cici per me ragazzoni andiamo a farci il terza e ultima partita di questo video ASMRissimo ragazzoni fatemi seri qui sotto nei commenti se vorreste altri video magari una challenge in ASMR perfetto ragazzoni mi ero stupito incredibilmente tanto prima quando ho fatto la kill con pompa del nonno ma è durata 10 secondi la gloria dopo Mayan1337 mi ha ammazzato spudoratamente senza alcun pietà quindi mannaggia a lui ci ha fatto sperare di saper giocare con mouse e tastiera e invece siamo dai napiti della madonna quindi ragazzone un bel polizio in su per il vostro luciusone nazionale che sta facendo un video ASMR si sta baccando al braccio e vorrebbe urlare da un momento all'altro per quelli che lo ammazzano quindi ragazzoni un bel like per sostenere il luciusone nazionale che cerca di portarvi nuovi video innovativi perché non so se qualcuno in Italia già l'ha fatto un video ASMR su fortnite sicuramente i canali proprio dedicati a questo ma un canale normale non so se l'ha già portato un video del genere ma comunque ragazzoni spero di farvi riuscire a dormire fatemi sapere poi qui sotto ai commenti anche se siete riusciti a dormire o se comunque vi rilassate guardandomi mentre sto per urlare mentre cerco di non urlare su fortnite quando muono stavolta raccendiamo un pochino più in là per non farle durare la partita due secondi proviamo ad andare qui ragazzoni dove c'è il pesce questo pesce di legno che sarebbe tanta roba se ci trovassimo magari un bel scaroro sarebbe un sogno ragazzoni ma con cose tastiere ragazzoni il gioco capisce che il suo scaccio magari me lo da vediamo un pochino no niente non è una cosa che mi danno è un bel pesce in faccia comunque non siamo morti subito ci serverebbe un po' perché come avete visto prima sono un pro creamer con il pompa eccolo qua abbiamo trovato ragazzoni l'abbiamo chiamato l'abbiamo chiamato ho la corsa automatica fategli raccogliere qualcosa che ho la corsa automatica ecco perfetto allora le armi ragazzi le abbiamo ce le abbiamo bianche ma ce le abbiamo ma cerchiamo comunque di trovare qualcuno anche perché non vorrei farmi una partita con seo kill anche se sarebbe la cosa più bella non incontrare nessuno visto che se incontro qualcuno tanto so che muoio dopo due secondi dove stiamo andando qua siamo entrati nel buco ok meno male meno male dovemmo uscire come si fa a uscire ok ragazzi dobbiamo uscire da qua cerchiamo qualcuno vediamo se c'è ok qua c'è gente vediamo se è andato di sopra oppure ok ragazzi è morto è morto ma io voglio prima andare a prendermi sta cassa voglio prima andare a prendermi sta cassa vediamo un po' come la capo perfetto ragazzoni vediamo un pochino che cosa riesco a fare allora andiamo a busciare che cosa ne dite ragazzoni oh volevo andarlo a busciare invece ci sono rimasto malissimo perché non sono caduto dentro mannaggia a me cosa si sta curando ragazzi guardate che pro player ragazzi sono un pro player della madonna sono un pro player della madonna oh raga non ci credo non ci posso fortunatamente credere qualsiasi avventura di vita l'avevo pochissima ragazzi bastava un altro colpo l'avevo pure preso in testa mannaggia mamma mia mi è stato buttata sei fortunato che stavo facendo un video ASMR altrimenti ti avrei tirato giù madonna cg ragazzoni io spero che in questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto se vi è piaciuto se vi ho rilassato e soprattutto se ne avete altri urca bilurca tutti noi ci vediamo in un prossimo video parla live ho sentito dire in giro che tu ancora non mi stai supportando come creatore che cosa? bene vai subito nel negozio oggetti di fortnite clicca sulla voce in passo a destra supporta un creatore ed inserisci il codice lucius maiuscolo o minuscolo che sia non cambia nulla cliccate su accetta e mi raccomando taggatemi nelle vostre storie di instagram mentre shoppate con il mio codice che vi riposterò a tutti dal primo all'ultimo e vi ricordo anche che a 500 supporter per ora siamo tipo 200 arriverà un contest un giveaway per tutti voi con la possibilità di vincere una skin iconic wonder o le varie skin dei vari bundle rari detto ciò bella ragazzoni